Evidentemente sarà un premio di consolazione, evidentemente hanno perso e quindi hanno deciso di non rispettare gli impegni elettorali e questa è una cosa che un po' mi dà fastidio. Per quanto riguarda il taglio degli stipendi dei consiglieri regionali, per quanto riguarda la Lombardia è una bugia, in altre regioni funziona, da noi no, perché per spiegarvelo, prevede il testo della riforma che l'emolumento del consigliere regionale possa essere quanto massimo quanto quello del sindaco del capologo di regione, nella fattispecie il sindaco di Milano Sala, i consiglieri regionali attualmente prendono 6.300 euro lordi, il sindaco di Milano ne prende più di 8.000 lordi, questo è per farvi capire che è una presa per i fondelli. Poi chiaramente non è in tutte le regioni che funziona così, il giochino dove sta in piedi? Sta in piedi sul fatto che i consiglieri regionali prendono anche una forte rimborso spese forfettarie senza tasse, nello specifico io prendo 4.000 euro al mese netti tassati, sui quali ho già pagato le tasse, 6.300 euro lordi, e 4.200 euro per rimborsi spese forfettarie senza tasse, quindi è qui il giochino. Ma per darvi ancora più, veramente contezza del fatto che non serviva una legge, la 174 del 2012 di Monti, che probabilmente il senatore ha anche votato, imponeva indirettamente un taglio degli stipendi dei consiglieri regionali senza una riforma costituzionale, perché diceva o tu consigliere regionale adatti il tuo stipendio a questo tetto massimo che devi rispettare di 11.000 e rotti, oppure noi ti tagliamo i trasferimenti per la regione, quindi per cui quasi tutti i consigli regionali si sono adeguati a questa legge. Tagli dei costi delle regioni ulteriori, io vado in giro per la città e mi trovo i cartelloni che mi dicono vuoi tagliare i costi delle regioni? Beh io mi sono candidato con questo impegno, figuratevi se non sono favorevole, no? Se dovessi leggere semplicemente il quesito referendario e quei cartelloni voterai sì. Sto volando su chi paga quei cartelloni, perché poi alla fine paga sempre di pantalone, cosa succederà? Che quei famosi rimborsi di cui vi ho parlato prima, quelli delle mutande verdi di Cota che tra l'altro è stato assolto, non è che ha condannato, non esistevano alcuni. Io vi faccio un esempio, in regione Lombardia, io cosa sto dicendo? Ad esempio in regione Lombardia quando si diceva che si erano comprati la Nutella, anch'io da fuori vedevo la Nutella, in verità è perché in uno sentrino c'è scritto uno Nutella che non ha piadina la Nutella per dirvi, quindi anche lì sulla comunicazione dovremmo fare, o sull'informazione in Italia dovremmo fare un incontro a parte. Però, tornando a noi, quei soldi che prima venivano utilizzati in questo modo, oggi tutti hanno paura di utilizzarlo proprio perché sanno che c'è il controllo della Corte dei Conti, ma noi oggi quei soldi li utilizziamo perché cosa? Per comprare i computer che utilizziamo, la carta, pagare la nostra quota a parte delle spese telefoniche del Pirellone, pagare la luce, quindi queste spese. Quando passerà la riforma? Non penserete mica che noi non stamperemo più, non utilizzeremo più i computer, non avevamo più la luce in ufficio, semplicemente non saranno più direttamente i gruppi politici a pagarli, ma saranno i consigli regionali, perché noi abbiamo già fatto delle modifiche di legge che tutelano proprio su quell'aspetto. Per esempio noi abbiamo 56 mila euro annui lordi, 56 mila euro annui da utilizzare per il personale, in alcune regioni questi soldi vanno direttamente al gruppo politico come trasferimento che poi li paga, in regione Lombardia i dipendenti noi li assumiamo per mandato fiduciario direttamente dal Consiglio regionale, quindi tutto questo non inciderà sulla situazione attuale. Per questo io ritengo che sia una truffa quel quesito, perché ti dicono una cosa, in verità poi i risultati non sono gli stessi, e la colpa di tutto ciò è nostra del Movimento 5 Stelle, che non essendo esperti e scafati non abbiamo capito che era necessario emendare anche il titolo della legge, non abbiamo capito che era fondamentale raccogliere le firme per chiedere al referendum prima degli altri, chiedendo come era già successo in passato che si votasse sugli articoli. Siamo stati inesperti e ne abbiamo pagato il conto, perché adesso troveremo un quesito che visto solamente così ci impone di votare sì, motivo per il quale noi cerchiamo di andare in giro a far capire che è una truffa. È un po' come se mi chiedessero buffagni, vuoi perdere 10 chili? Io gli direi subito sì, poi mi tagliano un braccio. Allora se io sapessi in anticipo qual è la fregatura, probabilmente non cascherei rispetto al titolo a questo spot pubblicitario che viene fatto su un quesito, che ripeto è legittimo, indipendentemente dai ricorsi di Unida, è pieno rispetto delle regole e delle leggi italiane, è semplicemente una mossa intelligente e furba di chi conoscendo con tre anni d'anticipo com'era il meccanismo, ha giocato d'anticipo. Quindi questo ci tengo a dirlo in maniera molto imparziale, perché alla fine è un dato di fatto. Sì, ma non è un problema, adesso siamo sulla conclusione. Domande? Comincio io con due domande, di argomenti che abbiamo solo tangenzialmente toccato, ma che vorrei sottoporvi con più carezza. Una è in cosa consiste la competenza dello Stato di definire i costi standard, sempre relativamente ai costi. E l'altra è una cosa che mi ha colpito quando l'ho sentito, ma non ho ancora ben capito di cosa si tratta. Cos'è lo statuto d'opposizione, delle opposizioni che viene messo da questa nuova riforma, viene presentato da questa nuova riforma? Ma lo statuto dell'opposizione è, anche questa è una cosa di cui si discute da tempo, cioè di prevedere che nei regolamenti parlamentari venga stabilito con maggiore chiarezza rispetto a quello che c'è oggi e che c'è in altri parlamenti, per prassi o per costituzione, il ruolo dell'opposizione, per esempio adesso nelle Camere, è previsto che ci sia una parte di iniziativa legislativa che sia pannaggio dei gruppi di opposizione. Quindi l'idea è che sia necessario una codificazione più efficace delle prerogative dei gruppi di opposizione, sempre perché ovviamente bisogna avere in mente soprattutto le opposizioni piuttosto che le maggioranze e quindi dare garanzia che anche le minoranze parlamentari abbiano una agibilità parlamentare, non che oggi non ce l'abbiano, ma è evidente che c'è la necessità di codificare meglio questa cosa. Sui costi standard quello che è successo in questi giorni con la Madia ci aiuta, cioè se tu non hai una previsione costituzionale come abbiamo inserito noi che preveda che lo Stato possa dire per esempio nella sanità che le regioni devono rifarsi a dei costi standard, cioè uguali per tutto, la famosa siringa per capirci, il famoso costo della siringa, devono essere uguali in tutto il paese, la riforma della legge Madia interveniva in questo e la Regione Veneto, credo, comunque sia opposta alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale ha detto eh sì, ha Costituzione vigente, lo Stato non può senza il consenso di tutte le regioni definire delle norme per i costi standard. Questo è uno degli elementi che ci aiuta a capire perché dal nostro punto di vista la nuova Costituzione garantisce un migliore equilibrio tra potere centrale e potere regionale nel senso che ad esempio i costi standard secondo me è un principio abbastanza sensato oggi non lo può imporre delle regole per avere i costi standard se non con l'accordo di tutte le 20 regioni. Questa parte viene data al legislatore centrale. Io non ho molto da aggiungere nel senso che sui costi standard la teoria la teoria è bellissima poi però l'attuazione non è semplice quindi dipendentemente da chi governerà perché non dobbiamo dimenticarci che poi abbiamo realtà diverse su tutto l'arco territoriale abbiamo delle difficoltà diverse problematiche diverse secondo le varie zone e quindi voi immaginate che un costo della siringa il problema della siringa in Sicilia non è solamente che costa di più perché è e lo dice un 5 stelle c'è il problema che ci rubano e quant'altro ma il problema è anche che hanno accumulato negli anni tantissimi ritardi di pagamento che comportano per chi è il fornitore dei costi finanziari molto più alti che attendere chi vende e fa l'offerta oggettivamente in globa quindi è un problema molto complicato da realizzare che è un obiettivo di livello costituzionale che condividiamo e che andrà negli anni raggiunto proprio perché siccome tutti i territori non sono uguali e tutte le regioni non sono uguali forse sarebbe stato più utile per il paese investire su un federalismo differenziato vero e non andare a depotenziare il 116,3 che praticamente ti toglie indirettamente avendo centralizzato delle competenze la possibilità di avere più risorse e competenze per i territori che magari riescono a gestirli meglio e meno per chi le gestisce peggio cioè oggettivamente in un'ottica federale di uno stato federale come quello che ho in mente io che sogno io personalmente avere comportamenti diversi con territori diversi è un po' come a scuola quando tu hai un bambino che è più bravo e uno che magari è meno bravo non puoi applicare lo stesso tipo di didattica adesso esaspero il concetto quindi sicuramente è un principio che è positivo che sia stato inserito in Costituzione l'applicazione richiederà secondo me tanti anni anche solo per andare a un regime minimo per quanto riguarda lo statuto delle opposizioni sinceramente io non conosco come è regolamentato a livello Camera e Senato io so che in Regione Lombardia c'è la possibilità per le minoranze di avere un X numero di provvedimenti da portare in discussione l'unica cosa che fa sorridere è che il regolamento delle opposizioni lo verrà votato comunque con una maggioranza che deciderà cosa prevedere quindi mi auguro perlomeno che quando si andrà a discutere questo tipo di provvedimento ci sia un'ampia condivisione affinché non ci sia sempre la situazione nella quale chi oggi è in maggioranza vuole assolutamente prevaricare chi è in opposizione e viceversa perché poi magari è una ruota che gira siccome è una ruota che gira anche chi è in maggioranza lo fa nella previsione ho detto mi auguro no perché entra nella registrazione quindi allora la mia domanda era diciamo in due punti allora il primo punto è abbiamo parlato di 252 leggi elaborate che con la nuova riforma di cui con la nuova riforma una decina sarebbero andate a ping pong che invece interessa tutte le leggi attuali di queste 252 però mi risulta che solo una cinquantina abbiano fatto più di un passaggio 200 quindi siano passate direttamente Camera Senato per cui la portata diciamo è abbastanza limitata se poi la caliamo in quello che è la realtà della cosa seconda cosa invece un appunto non era non è stato pensato di mettere un riferimento al pareggio di bilancio che comunque è abbastanza cioè forse anche il governo Monti del 2013 dicembre 2013 ha inserito la norma costituzionalmente vedendo come stanno andando le cose non era ragionabile rivedere un attimino questo vincolo ne prendiamo più di una poi se va bene poi le discutiamo io ne avrei alcune faccio brutalizzo le domande non faccio le premesse perché si diventa a lungo o meno eccetera spero che se la consulta dovesse in qualche modo bocciare quella che i giornali chiamano impropriamente l'italicum legge truffa 2002 questa video se chiama nessuno definisca burocrazia l'atto della consulta come invece abbiamo dovuto assistere oggi però io volevo fare un paio di domande esiste nella nuova ipotesi di costituzione la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica la domanda se esiste è un meccanismo tale per cui un solo partito se passa la legge truffa può mettere in stato d'accusa il Presidente della Repubblica sarebbe una cosa in cui l'elemento di garanzia del Presidente della Repubblica la funzione di garante del Presidente della Repubblica verrebbe fortemente penalizzato l'altra cosa è un rettaggio del passato evidentemente quella cosa che continuiamo a chiamare senatori a vita ma che ci azzecca in un istituto che dovrebbe rappresentare le autonomie rappresentare i territori cinque nominati in base al loro prestigio al lustro che hanno dato c'è una contraddizione fra le funzioni dell'immagine del vecchio senatore a vita che aveva un senso nel vecchio senato e fra invece un'istituzione nuova nelle fonti a me non piace io appartengo ad una scuola di pensiero qui ci venia citato Spadolini ma a quei tempi c'erano altri che proponevano delle riforme costituzionali io seguivo quelli che una sola assemblea nazionale di 400 deputati e tutto il resto come dire anche questa strana funzione dei cosiddetti cioè impropriamente detti senatore a vita non ci azzecca con quel che viene pensato il senato adesso grazie mille se ne sono altre partiamo da queste allora prego grazie sul messo stato in accusa del presidente ho dovuto leggere perché giuro che non me lo ricordavo e vedo che è identico quindi non è non è cambiato nulla e servirà appunto in tali casi è messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune maggioranza assoluta dei suoi membri quindi sì sì no ho capito però sarei falso a dire che la sapevo e me la ricordavo cioè ho dovuto cercare e ripeto in teoria poi lì si potrebbe discutere sul fatto che è per alto tradimento per attentato alla Costituzione quindi sta alla buona volontà del Parlamento ripeto è chiaro che non possiamo scindere la riforma costituzionale dall'Italico motivo per il quale io ho dato un parere sull'articolo in cui si parla della nomina del Presidente della Repubblica che però mi mette un po' meno tranquillo in abbinato alla legge elettorale però questa è una valutazione soggettiva di ciascuno di noi motivo per il quale appunto viene data l'opportunità di votare non nascondo però che questo tipo di problema che lei ha sollevato evidentemente è un problema che non dipende dall'esito di questa riforma ma dalla legge elettorale al quale tra l'altro io manco avevo pensato quindi non mi ero neanche posto il problema sinceramente gli altri quesiti mi sembrano più per il Senatore quelli relativi sulla sua posizione sulla sua visione io non mi esprimo perché è fuori dal mio campo d'azione odierno e in merito sì sì no infatti rispetto al tema di oggi apriremo un altro dibattito sulle altre domande credo che sia più corretto che risponda il Senatore dato che i dati li ha dati lui e quindi io darei sicuramente la risposta sbagliata sul numero delle leggi sulle leggi sulle leggi ping pong intendiamoci non è che c'è un problema in assoluto perché una legge che a me stava a cuore magari ad altri no comunque per me una delle leggi più importanti passate in questa legislatura su cui c'è dovuto c'è stato poi un investimento del governo era meglio non avere il governo in campo in una legge di questo tipo sì però è stato bene che il governo a un certo punto si sia messo in gioco cioè la legge sulle unioni civili per esempio è una legge che rischiava nel passaggio da una camera all'altra se a un certo punto non si fosse messo il governo che rischiava di non passare nella legislatura precedente c'era la legge sulla equiparazione giuridica dei figli nati dentro e fuori il matrimonio che c'è solo dal 2012 in Italia siamo stati lì lì perché con un'ultima modifica la volevano fare tornare al Senato non si sarebbe fatto nulla quindi adesso io questo dato specifico non lo conosco di quante siano mi sembra strano che siano così poche quelle che hanno fatto solo Camera e Senato ci avranno fatto almeno una due tre come minimo perché è difficile che vengano che una camera tranne quelle con la fiducia naturalmente però non è un valore assoluto però se tu uno mi chiede ma è bene mantenere il fatto che tutte le leggi debbano essere votate identicamente dalle due camere come hanno previsto i costituzionalisti nel 46 48 per evitare che ci fosse troppo potere io dico no oggi serve che sia una camera sola a fare le leggi a fare le leggi principali sul pareggio di bilancio io che ho votato a favore dell'introduzione del pareggio di bilancio in Costituzione e che penso che debba rimanere perché se noi vogliamo dire che il problema dell'Italia è che dobbiamo fare più deficit senza regole così staremo tutti meglio io non ci credo però dobbiamo ricordarci che la legge sul pareggio di bilancio che c'è nella Costituzione è stata fatta in modo minimo intelligente per cui cosa ha implicato in questi anni aver messo in Costituzione la legge sul pareggio di bilancio che due volte all'anno nell'assestamento di bilancio insomma per capirci semplificare c'è bisogno di un voto a maggioranza assoluta cioè la maggioranza dei membri delle due camere che dice come prevede la Costituzione che se ci sono problemi per la congiuntura economica o per eventi straordinari si può derogare al pareggio di bilancio quindi non è una cosa rigida tant'è che come è noto non c'è mai stato un pareggio di bilancio in questi anni però abbiamo l'obbligo essendo peraltro un paese indebitato eccetera eccetera a motivare con un voto perché deroghiamo dalla previsione costituzionale a me va bene così cioè se anche lo togliessimo nei fatti non cambierebbe niente però io temo che qualcuno potrebbe pensare che allora si può spendere quanto si vuole eccetera quindi questo era solo per specificare che non è stata modificata ma la legge attuale ha una flessibilità vera sui senatori a vita cioè che non ci sono più e sono sostituiti dai senatori a tempo nel senato che ha prevalentemente ovviamente al 95% il connotato di camera si è scelto seguendo una tradizione che è italiana e poco più di mantenere quel tipo di nomine da parte del presidente della repubblica che però non è il partito del presidente della repubblica perché a meno che muoiano cioè a meno che vengano nominati tutti e muoiano tutti i senatori a vita attuali insomma ci sarà un'alternanza si potevano togliere forse sì forse no poi alla fine si fa i si fa i conti con la storia era una prerogativa del capo dello Stato quella di nominare dei senatori per rispetto del capo dello Stato le assemblee che hanno modificato la Costituzione non sono intervenute togliendo una prerogativa che il capo dello Stato ha succede così io non lo trovo scandaloso dipende dalle nomine che vengono fatte puoi avere puoi avere personalità di grande qualità eccetera oppure no ma insomma non lo trovo così complicato però ripeto noi avremmo dovuto intervenire togliendo una prerogativa all'attuale capo dello Stato eccetera sul fronte dell'impeachment però dobbiamo chiarirci io non è che non ho votato l'italicum per disciplina di maggioranza per me la legge elettorale migliore è quella dei collegi e tra quelle che abbiamo visto negli ultimi dopo il proporzionale puro con le preferenze era il mattarello mi avrei tolto e a suo tempo proposi un referendum con altri per togliere la quota proporzionale avere solo eletti nel collegio però ciò detto il fatto di avere una maggioranza di 340 che è esattamente come quella che c'è da quando c'è la legge elettorale attuale non è che è la fine della democrazia primo perché con i collegi puoi avere una maggioranza più ampia come è successo di 340 alla Camera perché se vai al voto con i collegi all'inglese per capirci puoi avere come è successo una maggioranza anche più ampia per cui la legge attuale e anche l'Italicum che pure verrà cambiato speriamo non peggiorato prevede una maggioranza fissa di 340 340 significa che se 25 del tuo partito che per fortuna dico io non hanno il vincolo di mandato decidono di contrastare una decisione che tu capo del partito prendi perché sei impazzito la maggioranza la perdi in un attimo come è successo a Berlusconi nella legislatura precedente per lì erano coalizioni ma la maggioranza era sempre quella ciò detto se a questo aggiungiamo il fatto che in Senato comunque hai una composizione anche se i 5 Stelle fanno il 90% avranno meno del 90% del Senato anche se fanno il 90% in tutte le regioni perché nelle regioni piccole devi comunque garantire uno della maggioranza e uno dell'opposizione rispetto all'impeachment e chiudo anche tenendo l'italicum la norma resta uguale la praticabilità per il cattivone della maggioranza diminuisce rispetto alla norma attuale questo ci dice l'aritmetica perché i 340 sono esattamente la maggioranza che hai oggi anzi oggi se tu avessi il 90% in tutte le regioni avresti nel Senato attuale una maggioranza più grossa quindi domani la composizione del Senato rispetto a questo tipo di temi garantisce molto di più prima di far rispondere il consigliere regionale scusami sull'elemento del pregio di bilancio volevo prendere qualche altra domanda se c'è così gli facciamo rispondere più domande l'appello al voto e vabbiamo stranando c'è qualche altra domanda grazie allora grazie la mia più che una domanda specifica è una considerazione sull'appuntamento di oggi io vorrei veramente ringraziare il gruppo che ha organizzato introdotto essendo giovane è ancora più meritevole ancora più onore questa cosa qua noi avevamo bisogno di questa opportunità di formazione noi siamo abitati alle schiamazze ormai invece oggi veramente devo ringraziare i due rappresentanti di 5 Stelle e di scelta civico del governo per aver veramente esposto in modo sereno tranquillo pacato quel che è un momento di formazione importante per il cittadino e soprattutto per le giovane generazioni per quanto riguarda la Costituzione io ritengo che ogni Costituzione è bella efficiente è buona e qui mi collega a quanto diceva il rappresentante di 5 Stelle all'inizio se il profilo del politico è alto altrimenti veramente cadiamo sempre nel ridicolo che la colpa è come state per quanto riguarda la prima repubblica la colpa era dei partiti e non delle persone poi i politici ce li ritroviamo nella seconda repubblica gli stessi identici che erano poi i rappresentanti dei partiti sono spariti i partiti ma sono rimasti le persone per cui dico veramente il profilo del politico se aumenta se abbiamo un buon profilo ogni Costituzione sicuramente sarà custodita e bene interpretata grazie grazie mille dell'intervento volevo chiedere una cosa a Buffani perché da quello che ho capito ritiene che questa riforma è meno garantista dell'attuale stato della Costituzione soprattutto per quanto riguarda il Senato perché nell'esempio che lei faceva prima precedente nel caso un partito avesse il 90% dei voti sarebbe più difficile introdurre modifiche in Costituzione proprio perché la composizione del Senato dà altre garanzie che sono che dipendono dalla distribuzione dei ruoli regionali questo non è un indice di garantismo cioè introduce una formula di garantismo maggiore rispetto allo stato attuale poi un'altra domanda già che ci sono è vero che ci sono dei diciamo progetti scomodi per interesse nazionale come può essere il TAP come può essere il centro di stoccaggio dei rifiuti radioattivi a livello nazionale ma se deleghiamo troppo potere a livello locale cioè personalmente neanch'io vorrei che il TAP mi passasse sotto casa o avere uno stoccaggio a un chilometro ma delegando troppo potere locale a questo tipo di decisioni non si rischia un impasse e quindi di spendere troppo per smaltire rifiuti all'estero magari in stati del terzo mondo come diritti o bloccare progetti che possono essere poi se ne può discutere però di interesse nazionale come il TAP Grazie mille Altre domande? Ok Andiamo al no poi al sì Allora prima rispondo sul pareggio di bilancio rapidamente io sono convinto che invece bisognava modificare quel passaggio e sono convinto che la scelta non sia tra fare debito incondizionato sprecando soldi ma sia necessario poter avere una leva che già oggi noi abbiamo molto meno grazie al fatto che abbiamo la banca centrale europea che praticamente ci detta la linea questa è una mia valutazione personale anche una valutazione probabilmente del Movimento 5 Stelle io credo che i soldi ci sono ma vengono sempre utilizzati male e per collegarmi a quello che veniva detto prima vi ho fatto l'esempio vi ricordate prima dell'autostrada perché era il famoso discorso della competenza che viene centralizzata sempre sul tema energie a Lodi governo e regione hanno autorizzato il più grosso stoccaggio di gas sul territorio nazionale io inizialmente tra l'altro ero anche molto contento della cosa nella mia ignoranza sul tema dissi ah che bella cosa era intelligente si utilizzava un vecchio sito di stoccaggio gas dal quale diciamo veniva tirato fuori il gas oggi cosa viene fatto siccome durante l'estate noi abbiamo delle tariffe fisse colleni quindi paghiamo comunque quella cifra per avere del gas lo si stocca e poi quando c'è un picco di domanda lo si ha già qua senza dover ricorrere a me sulla carta sembrava una cosa intelligente quindi ero anche favorevolmente d'accordo ed erano d'accordo sia regione che stato poi cosa è successo che i cittadini e i professori ci hanno spiegato quali sono i rischi di pompare sottoterra del gas perché è un conto se è naturalmente lì presente noi lo estraiamo ma se noi lo pompiamo sottoterra poi lo tiriamo fuori poi lo ripompiamo noi sottoponiamo il territorio a delle sollecitazioni che possono essere dannose anche perché l'area di Lodi sotto il quale c'è questo sito è veramente grande allora depauperare gli enti territoriali di una voce in capitolo su questo tema non vuol dire bloccare un'infrastruttura perché ripeto è stata autorizzata sta andando avanti il governo Renzi ha autorizzato addirittura la partenza dei lavori quindi sta andando avanti il problema è togliere voce in capitolo ai cittadini e alle autorità locali perché tu ti troverai un domani a votare il sindaco il consigliere regionale che praticamente li potranno mettersi a fianco a te a urlare quanto è brutto e cattivo l'altro ma non avranno una leva in mano che poi ripeto può anche essere giusto in una visione centralista io questo non lo contesto io non lo condivido quindi l'esempio del TAP io te lo riporto su quello che conosco meglio che è la Lombardia per quello ti ho fatto un esempio che abbiamo su questo territorio per quanto riguarda le garanzie noi oggi abbiamo delle garanzie all'interno del Senato e della Camera per le riforme costituzionali tant'è vero che sono state fatte maggioranze trasversali per poter approvare questa riforma tant'è vero che è diventato il mercato delle vacche per approvare questa riforma perché se non c'era il gruppo di Verdini che nessuno ha eletto che è un conglomerato di persone non passava la riforma non passava quindi le garanzie che oggi ci sono da sole non hanno perlomeno permesso di fare un'approvazione di una riforma costituzionale senza passare dal voto referendario un domani io ho fatto l'esempio nel 2018 perché è più facile chiaramente fare le simulazioni di come sarà il Senato nel 2018 rispetto a come sarà il Senato nel 2025 io ho fatto l'esempio dei 5 Stelle che vincono con il 90% che io non mi auguro succeda perché sarebbe un disastro perché non sarebbe il 90% immaginate cosa significa però era per far capire che la volontà popolare viene schiacciata o perlomeno non può essere rappresentata a pieno questo è il concetto perché se si andasse con un movimento 5 Stelle che vince le elezioni con una maggioranza equilibrata per poter inserire il vincolo in mandato hai comunque bisogno di due terzi dei voti se vuoi approvarla solo in Camera e Senato però a quel punto cosa potrebbe fare una forza politica che governa potrebbe approvarla col 51% e dar poi la parola ai cittadini su un tema così importante senza basarsi sui sondaggi che già dicono che il 90% degli italiani ad oggi è favorevole a questa posizione cioè è una diversa riorganizzazione dello Stato che può essere positiva o negativa io sono convinto che se è fatta in questa riforma una scarpa e una ciabatta cioè hanno provato a prendere ispirazione da una riorganizzazione guardando gli stati esteri con i risultati però di fare un mix che non funziona la stessa cosa che è stata fatta per esempio per le comunicazioni IVA che adesso bisognerà fare nel prossimo anno per le piccole e medie imprese cioè hai visto e per tutte le aziende chiaramente anche le grandi ma le piccole e medie avranno un po' più di difficoltà cioè tu prendi ispirazione da degli altri stati come la Germania però poi ti dimentichi un passaggio cioè faccio un esempio stupido quando in Germania tu mandi la dichiarazione IVA trimestrale se sei a credito lo Stato ti paga subito perché questo aiuta le imprese sugli aspetti finanziari per funzionare se tu sei in Italia e sei a credito i soldi li ricevi fra due anni tu mi stai semplicemente caricando di nuove rotture di scatole balzelli burocrazia fai guadagnare i commercialisti io lo dico contro il mio interesse perché alla fine è una roba veramente superflua e non stai dando il vantaggio per i cittadini quindi tu prendi spunto semplicemente per fare una lotta bieca all'evasione fiscale sulla carta e poi non hai le risorse per fare un'aggramorazione di dati quindi se tu prendi l'esempio da qualcuno poi devi guardare la visione complessiva del funzionamento dell'altro Stato e devi declinarlo su base nazionale è come se noi volessimo copiare come funziona la Svizzera e riportarla in Italia tu capisci che in Svizzera su 7 milioni di abitanti certe dinamiche funzionano come la dichiarazione precompilata per esempio immagina la complessità di trasmettere le dichiarazioni precompilate oggi in Italia allora questo è il nostro modo di ragionare se bisogna prendere spunto si può anche ragionare ma bisogna poi calarlo in maniera intelligente e quello che invece io ritengo è che è stata fatta in maniera sbagliata dando priorità degli aspetti comunicativi della riforma perché se volevano abolire solo il CNEL con 4 votazioni lo abolivano se avessero voluto fare l'inserimento della democrazia diretta trovando delle mediazioni e volevano fare solo quella lo si aboliva senza cioè lo si modificava senza problemi con i due terzi del Parlamento chiudo con un altro esempio per farti capire le garanzie il governo avrà il famoso discorso di chiedere il voto a data certa ma ti faccio un esempio perché serve il voto a data certa a 170 giorni se io sono il governo ho una legge con una maggioranza stabile perché ho preso una maggioranza ho preso il premio maggioranza la Camera ho la mia maggioranza tranquilla con il mio partito posso votarla anche in 20 giorni la legge perché se ho tanto la governabilità che serve perché devo aspettare 70 giorni che il governo mi chiede entro 70 giorni il voto a data certa c'è già la maggioranza mi hai detto che mi rendi con la modifica della Costituzione governabile il Paese cosa serve ti do una maggioranza con la quale puoi governare evidentemente la teoria è bellissima poi nell'applicazione capisci che c'è qualche problema e un'altra riflessione che poi qui vorrei sentire cosa ne pensa Senatore perché mi piacerebbe proprio mentre fa il selfie mi faccio avvicinare che se no sembra la sala mezza vuota e di Battista ci insegna queste cose ah l'ha studiata non come faccio non come di Battista il miglior comunicatore politico in Italia no al di là di tutto una riflessione noi stiamo già studiando come si potrà fare cioè i vari scenari se vince il sì se vince il no se governiamo se siamo in opposizione e ti faccio un esempio ci siamo posti questo quesito domani il governo dice riforma approvata il governo dice vogliamo il voto a data certa di questo provvedimento siamo i 5 stelle che governiamo il famoso 90% vogliamo il voto a data certa già lì mi domando scusami ma perché devo chiedere il voto a data certa se già governo al Parlamento se è una legge che è condivisa la si approva in 20 giorni sto parlando su questo cosa succede che al 45esimo giorno o al 50esimo giorno il Senato dove noi non abbiamo una maggioranza un terzo del Senato richiama la legge e ha diritto a richiamarla per 40 o 45 giorni infatti adesso gli ho chiesto se questa mi risponde è un quesito almeno utilizziamo allora ho detto ma se lo richiama e lo può tenere 40 giorni e mi sfora i 70 giorni qual è la priorità? è una domanda davvero a cui questa ho colto io l'occasione perché siccome si stiamo preparando a capire come potrebbero fermarci se governiamo per evitare di fare figuracce perché noi abbiamo bisogno del vincolo di mandato come 5 stelle noi ne abbiamo bisogno perché siccome abbiamo due mandati al contrario degli altri al secondo mandato quanti obiettori di coscienza ci troveremmo nelle nostre file? capite che è un ragionamento che sto condividendo in maniera trasparente se noi andiamo a governare quanti dei nostri che sono al secondo mandato che quindi non devono più farsi rileggere si pongono al problema di coscienza all'acivati e mi dicono ciao visto che non avete approvato proprio questo emendamento per il mio territorio io me ne vado e noi se vogliamo approvare il vincolo di mandato non lo possiamo fare perché anche se abbiamo stravinto il senato ce lo blocca perché sarà preconcetto perché è una cosa che ha buon senso diciamo per la maggioranza del senato ma sono certo che diventerebbe uno istruzionismo politico grazie grazie mille questa era seria ma guarda parto dalla questione dei rifiuti perché poi c'è la teoria poi c'è la pratica io ho una qualche idea anch'io delle cose che non funzionano in Italia cerco di lavorare al meglio ma so benissimo che non c'è il colpevole o i colpevoli un paese e lo stato della democrazia dell'economia della civiltà di un paese dipende un po' da tutti noi dare l'illusione che adesso arrivo io come ha fatto Berlusconi come adesso magari fa Grillo adesso arriviamo noi che siamo migliori e sistemiamo tutte le cose questo è un modo di argomentare che a me personalmente non convince perché è il modo di argomentare è morto Fidel Castro rendiamo tutti omaggio a un grande del novecento ma rendiamo omaggio anche a un grande dittatore che adesso arrivo io e metto in galera gli omosessuali e faccio tante cose e vado dritto al punto la realtà è una cosa un po' più complicata sì no no ho detto rendiamo omaggio a uno che però era anche ed è stato un dittatore chi ha conosciuto chi ha conosciuto chi ha conosciuto gli esuli cubani sa cosa significa avere la libertà o no avere un governo che funziona che ti dà la sanità magari alla scuola più che negli altri paesi ma che ti nega la libertà ora da questo punto di vista però poi c'è il dire al fare io adesso sono ma non lo dico ti giuro che non lo dico con intento polemico si parlava di rifiuti adesso io sono vorrei capire cosa vuole fare il sindaco di Roma la città dove io produco più rifiuti perché è quella dove passo più tempo e ci pago tutte le tasse da inquilino da inquilino pago pago la mia tassa sui rifiuti naturalmente anche sui rifiuti e sono quindi curioso di capire come risolverà il problema oltre che di tenersi tutti quelli che lavoravano prima giustamente perché arrivi poi ti tieni quella che lavorava prima con quelli che hanno distrutto Roma perché devi tenerti qualcuno che conosca il mestiere il problema è che i rifiuti non vanno nel terzo mondo chi è che l'ha detto ecco il problema è che i rifiuti da Roma avendo deciso di chiudere le discariche non volendo fare i termovalorizzatori eccetera da Napoli e da Roma i rifiuti magari un po' vanno a Brescia e in qualche altra parte del nord dove giustamente per i bresciani fanno fatturato che va a diminuire usando i loro termovalorizzatori ma l'altra parte va ormai non vanno più quello che tu hai definito il terzo mondo ma magari vanno in Germania o addirittura o ancora più a nord quindi in paesi attentissimi più dell'Italia tradizionalmente alla qualità dell'ambiente al coinvolgimento delle popolazioni nelle decisioni eppure paesi che hanno saputo fare anche i termovalorizzatori in Austria o dalle altre parti quindi è possibile se i professori i cittadini e i politici tutti quanti assieme se si decide di giocare insieme non a chi riesce a far più casino perché ci sono paesi dove lo ripeto la democrazia è rispettata dove il coinvolgimento delle popolazioni nella decisione che ci deve essere ci sarà sempre ci saranno le conferenze dei servizi eccetera non è vero che non si ascoltano dove poi alla fine però tutto è fatto per avere una decisione e sui rifiuti è clamorosa la situazione italiana è clamorosa ci sono posti come Brescia tanto per citarne uno vicino dove hanno fatto impianti di termovalorizzazione oltre che di differenziazione eccetera eccetera ci sono posti dove non si riesce a fare niente adesso io il caso del avevo seguito anch'io il caso l'odigiano dell'utilizzo dei vecchi giacimenti di gas come stoccaggio non ho sentito i professori che erano contrari sicuramente ci sono perché qualsiasi cosa fa ha un profilo di rischio però poi la decisione va presa e l'ha presa insieme però si possono fare le cose anche quando si si ma il problema il problema non è che tu devi prevaricare il problema che ci devono essere a un certo punto espletate tutte le procedure non si può dire beh allora non lo facciamo ci vuole la possibilità che si prenda una decisione e questo è il punto da questo punto di vista della nuova costituzione sulla data certa se non sbaglio ma siccome non faccio il costituzionalista di mestiere non il richiamo mentre se tu approvi una legge a data certa i tempi che non sono di richiamo ma che sono di valutazione del senato si dimezzano non vorrei sbagliare mai così quindi tu hai i 70 giorni il tempo che il senato ha per fare le sue osservazioni si dimezza no ma il problema è quando il senato con un terzo dei senatori può richiamare la legge per 40 giorni per poi rimandarla indietro i tempi si dimezzano ma dopo l'approvazione non durante però insomma facciamo una verifica ma è quello è quello il punto la previsione ecco volevo dire questa cosa però l'idea che se tu c'hai la maggioranza fai tutto dal mio punto di vista forse sarà un vecchio liberale è esattamente quello che non ci deve essere nei parlamenti che devono preservare la libertà innanzitutto perché se no se tu vai in Russia o ahimè adesso anche in Turchia loro hanno vincolo di mandato data certa fanno tutto e tutti stanno zitti per cui tu che oggi hai giustamente e con onestà intellettuale evidenziato le cose perfino sulla Costituzione su cui il Movimento 5 Stelle sta facendo una battaglia epocale anche oggi pomeriggio anche se non ho capito come è andata la manifestazione tu giustamente hai detto io su questo dissento e non mi hanno ancora espulso e io spero che non ti espellano mai perché dissenti quindi l'idea che se uno ha la maggioranza fa tutto che è un po' quella che aveva Berlusconi che aveva anche idee buone ma c'aveva quest'idea del Parlamento che mandi il tuo amministratore delegato e vota solo il capogruppo per fortuna le democrazie non funzionano così anche nei consigli comunali dove il sindaco ha la maggioranza ma se vuoi fare una cosa che non convince i consiglieri regionali viva Dio i consiglieri regionali perché devono difendere l'ambiente o il sociale o qualsiasi altra cosa ti votano contro quindi la data certa si sposa con la libertà dei parlamentari e che soprattutto con la libertà dei parlamentari di opposizione perché finché il Parlamento è un Parlamento e non è la Camera dei fasci e delle corporazioni che ratifica le decisioni del Capo le opposizioni oggi sono il governo ma diciamo distinto radicale sono un oppositore ho passato tempo all'opposizione parlamentare le opposizioni faranno di tutto se lo ritengono come ha fatto il 5 Stelle giustamente per la legge elettorale per la legge costituzionale perfino per le unioni civili le opposizioni fanno quello che devono fare cioè di opporsi all'approvazione delle leggi anche delle leggi del governo la data certa significa che il governo non dovrà più usare in modo sbagliato i decreti legge e la fiducia e il Presidente della Repubblica finalmente potrà dire no governo non fai il decreto legge su questo oggi i Presidenti della Repubblica alla fine si arrendono perché l'alibi del fatto che se non faccio il decreto legge non riesco a fare in tempo a fare una legge che serve al mio programma di governo non è più un alibi ma è la realtà quindi legge data certa significa che a un certo punto il Parlamento vota o a favore o contro allora in una versione il Parlamento avrebbe dovuto votare a favore o contro il disegno di legge nel testo del governo oppure nel testo approvato dal governo oggi abbiamo ancora di più secondo me troppo ma comunque abbiamo ancora di più reso meno pesante questa data certa perché il Parlamento si impegna a votare entro 70 giorni nel testo che lo stesso Parlamento avrà potuto modificare secondo le regole solite cioè con gli emendamenti approvati a maggioranza a me sembra una misura razionale ragionevole e non è vero che se tu hai la maggioranza in Parlamento puoi far tutto quello che vuoi quello sono altri Parlamenti non voglio dire la Corea del Nord tu in un Parlamento di persone libere come devono rimanere i parlamentari e a me spiace quando vedo le espulsioni le cose in un Parlamento di persone libere sono le regole che danno certezza non il fatto che uno non è più libero anche di cambiare idea è impopolare è impopolare e io lo dico e lo rivendico rivendico una cosa impopolare io rivendico la libertà dei parlamentari e dei consiglieri comunali anche di votare contro il loro capo partito contro il loro sindaco e contro il loro presidente del consiglio però dobbiamo mettere delle regole che consentano al presidente del consiglio e al governo di governare la data certa è questa non conculca la libertà perché puoi votare no puoi votare un testo diverso però ti impegni semplicemente entro 70 giorni a votare io ci tengo a sottolineare una cosa il vincolo di mandato non è non è tu cur io sono un consigliere regionale ho preso un impegno su un programma elettorale regionale quindi io do un parere mio personale su una riforma costituzionale da cittadino eletto nelle istituzioni e sono libero di dire quello che penso io ripeto poi i ragazzi del 5 Stelle di qua mi conoscono io sono anche uno che va dentro a rispettare ma sono un po' rompipalle però un conto è io ho preso un impegno con i cittadini che siamo contro gli inceneritori e nelle istituzioni io mantengo quell'impegno un conto è sull'Unione Civile i 5 Stelle non avevano niente nel programma elettorale e a un certo punto si è lasciata libertà alla coscienza personale è stata fatta questo tipo di operazione giusto? perché hanno fatto una scelta loro io non entro in merito non mi sostituisco a loro il problema è che i parlamentari sono liberi di muoversi ma il rispetto quante volte esistono la possibilità di fare un voto in dissenso dal gruppo esiste non è morto nessuno ma se io dico che sono contro gli inceneritori e poi voto a favore di un inceneritore non sto rispettando l'impegno elettorale credo non stiamo parlando di una cosa da poco secondo me perché poi il vincolo di mandato serve a quello sul programma non sul partito noi questo è quello che vogliamo nessuno ha detto il vincolo è sul partito sul capo politico è sul programma perché se hai preso un impegno con i cittadini quello rispetti poi prima di scusate che mi avevo preso appunti perché inceneritori tema ambientale qual è il problema in regione Lombardia tutti all'unanimità nel 2013 abbiamo votato la mozione dei 5 stelle ma l'hanno votata tutti per la progressiva dismissione degli inceneritori la progressiva dismissione vuol dire che non li chiudo tutti domani mattina perché non si può fare però piano piano siccome i Lombardi stanno migliorando l'efficienza della loro raccolta rifiuti siccome paghiamo una marea di tasse paghiamo una marea di tasse sui rifiuti stiamo facendo la differenziata sempre meglio diminuiamo il numero di indifferenziato che mandiamo all'incenerimento in una politica virtuosa è chiaro che io devo andare in quella direzione quindi più i miei concittadini migliorano meno indifferenziato indifferenziato fanno piano 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 vado a chiudere un inceneritore alla volta partendo dai più obsoleti per poi finire sugli altri e allora cosa viene deciso dal governo questa è una visione condivisa a livello regionale quindi non è una questione politica di un partito poi cosa succede dal governo con Letta Presidente Letta ci dicono praticamente che le nostre decisioni non contano nulla perché a un certo punto noi dobbiamo prenderci i rifiuti delle altre regioni e non è una questione di leghismo è una questione che alla fine se tu lasci ai cittadini che non rispettano e che non lavorano per diventare virtuosi la via d'uscita dove non gli cambia la vita anzi cacchi degli altri tu non stai trasformando i tuoi cittadini in cittadini virtuosi che vogliono cercare di migliorarsi ma gli stai dando la via d'uscita per dire chi se ne frega anche se buttiamo i sacchetti giù dalla finestra tanto vanno da qualche parte qualcuno risolve il problema cioè se siamo una comunità dobbiamo tutti indirizzarci verso questo tipo di visione del paese secondo noi Virginia avrà le sue valutazioni la Raggi farà quello che deve però io ripeto noi qua abbiamo 13 inceneritori 13 inceneritori che al momento sono la metà in perdita perché i cittadini lombardi non gli stanno più dando indifferenziata perché i comuni lavorano per aumentare la differenziata e i comuni da un lato non diminuiscono le tasse della Tari perché altrimenti hanno subito i tagli finanziari del governo centrale e il Latari gli serve per ricoprire le spese perché lo sappiamo benissimo che funziona i cittadini prendono pure la multa se sbagliano la differenziata pagano le tasse per far funzionare inceneritori che sono in perdita per coprire i buchi voglio dire cioè in un'ottica di stato federale questa roba sarebbe intollerabile no? se a Roma non riescono a portare i rifiuti perché attualmente i romani non stanno riuscendo a fare una differenziata corretta e li mandino da un'altra parte io non ho capito cioè capisci che è un concetto di efficienza del nostro sistema poi sul vincolo rimandato e chiudo perché è un tema a me molto caro possibile che lei è stato eletto con forzità no il PDL e poi è diventato con fratelli d'Italia come si chiamava perdono che ogni volta mi dimentico quello con Fini quando ho litigato con Fini come si chiamava tanta partiti com'era? future libertà giusto? future libertà è stato quindi ci siamo candidati con un partito poi una volta le istituzioni cambiamo idee con Fini litighiamo con Berlusconi andiamo in future libertà poi votiamo la legge Fornero poi decidiamo di candidarci con Monti oggi siamo nel gruppo misto perché si è sciolto il gruppo Monti quindi non per colpa sua ma per colpa di altri che hanno deciso di fare in transfughi alla Scillipoti posso non condividere questo approccio? è legittimo? nessuno mi ha mai leso la mia libertà di espressione in consiglio regionale mai nessuno mi ha mai telefonato dicendomi Stefano devi votare così mai sul mio programma elettorale voto continuamente no è un po' diverso è un po' diverso i senatori nostri hanno fatto delle altre operazioni magari fosse una società per azioni magari fosse una società per azioni è innanzitutto un SRL che è in perdita e poi non è da un SRL lo sa meglio di me senatore poi se dobbiamo raccontare non telefonava a dire cosa bisogna fare vuoi che ti dica quello che dicono? assolutamente puoi dirlo puoi dirlo puoi dirlo puoi dirlo chi ha citato la raggi non sono stato io puoi dirlo tranquillamente liberamente dicendo anche chi sono ma certo puoi buttare in cacciato innanzitutto sugli inceneritori io però divento idrofobo a un certo punto perché bla 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 ci abbiamo due sindaci importanti uno il primo sindaco eletto di 5 stelle è stato eletto dicendo che non faceva l'inceneritore Pizzarotti e l'ha fatto giustamente non l'ha fatto non l'ha potuto bloccare è stato eletto dicendo che lo bloccava e giustamente non l'ha bloccato se non si era informato prima del fatto che stava promettendo una cosa che non poteva fare è un problema suo e la raggi non fa altro non decide nulla e chiude le discariche la differenziata a Roma è un casino Marino ci aveva provato e dopodiché è facile dire ah perché qui perché noi perché su perché giù io sto ai fatti in sei mesi non sono ancora riusciti a migliorare la differenziata lei l'unica cosa no 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 non sto parlando della differenziata sto parlando delle discariche sto parlando della decisione sulle discariche e sui rifiuti ho capito dopodiché tu dici noi lombardi non vogliamo i rifiuti del governo cattivo che dice che se a Roma non riescono a prendere una decisione forse piuttosto che sversarli in mare è meglio dire visto che la Lombardia ha una capacità di smaltimento dei rifiuti avanzata e visto che la Lombardia nel frattempo sta facendo passi avanti forse è meglio che i rifiuti vengano smaltiti in Italia piuttosto che buttare dei soldi per portarli fuori però questi sono i due casi dopodiché visto che la butto in cacciara io la mia storia politica la rivendico dalla A alla Z se tu riesci a trovare se tu riesci dopodiché fra dieci anni vedremo la tua perché questa cosa dei due mandati sono pronto a scommettere su quanti mandati farà Di Maio e quanti mandati farà Di Battista ma ci sarà sicuramente una ragione una ragione di interesse nazionale per cui faranno il terzo mandato come c'è una ragione di interesse nazionale di questi che mi fanno la morale dalla mattina alla sera io sono stato eletto parlamentare no questi ho detto non tu sono stato eletto parlamentare europeo ho fatto un mutuo da 500 milioni di lire per finanziare non delle piccole imprese per comprarmi il voto degli italiani ma per finanziare le attività del partito radicale per la libertà e i diritti umani nel mondo non ne faccio una ragione e così ho continuato a fare capito dopodiché vado a vedere gli scontrini di questi che ci fanno la morale e ci hanno gli scontrini dove spendono più di tutti gli altri quindi a me sta storia che ci sono quelli buoni bravi e che non guadagnano e che dopodiché fanno la morale quando io incontro i tuoi colleghi parlamentari dicono onestà onestà e gli dico sempre ok siamo onesti in due passiamo al punto successivo comunque io rivendo no visto che ne hai parlato io rivendico tutta la mia storia politica se trovi la cosa che per me è più importante io sono nato antiproibizionista sto rifacendo l'antiproibizionista continuo a fare l'antiproibizionista sulla cannabis per esempio sono nato politicamente per fare le leggi sulle unioni civili degli omosessuali per i diritti degli omosessuali e continuo a fare quello sono nato europeista e continuo a fare l'europeista quindi non mi vergogno di niente tu puoi prendere in giro con questa cosa del vincolo di mandato che vale per tutti tranne che per i gridini che vengono espulsi direttamente se hanno idee diverse dalle tue io rivendico di avere di avere una volta nella mia vita cambiato gruppo parlamentare una volta per ragioni politiche evidenti perché rivendico la mia libertà rivendico di essere stato eletto con Berlusconi per fare delle cose liberali rivendico il fatto di essere il mio posto quando le cose liberali non venivano fatte e le uniche cose che venivano fatte erano quelle leghiste io lo rivendico dopodiché mi giudicheranno mi rieleggeranno non rieleggeranno io preferisco questa politica della gente che rivendica le idee che rivendica i propri comportamenti non che si nasconde dietro la disciplina di partito col vincolo di mandato in costituzione se questo è il problema se questa è la discussione poi dopodiché ti auguro a differenza dei due terzi dei senatori dei 5 stelle miei colleghi che se ne sono andati e non sto a dire se sono andati i migliori i peggiori quelli che prima di fare politica facevano delle cose importanti o no lascio perdere tutto questo a me un partito gestito in quel modo lì con alla fine della catena decisionale una SRL a me non sembra un modello che ti possa consentire di fare degli attacchi personali io mi sono candidato in un partito e me ne sono andato hai capito quindi la morale dopo sei mesi si è candidato con un altro ancora no sono d'accordo però questa è parte del confronto politico se uno mi attacca se uno alla fine di un di un confronto sul merito sente il bisogno di fare un attacco personale politico io alla fine reagisco ho parlato di vincolo io ho parlato di vincolo di mandato sul piano costituzionale spiegandoti perché io non sono d'accordo ho detto perché io non sono d'accordo sul vincolo di mandato che non c'è in Gran Bretagna ovviamente culla della liberale democrazia dopo di che scusate chiudo qua se uno tira in ballo per delegittimare l'idea strumentalmente un attacco personale io sono fatto così reagisco non vado all'attacco ci sono altre domande o se no possiamo andare all'appello al voto io non vi invito a votare no io vi invito a andare a verificare tutto quello che vi abbiamo detto di non fidarvi di noi di andare a verificare la riforma leggerla farvi una vostra idea e cercare di informare il più possibile i cittadini perché oggi noi abbiamo bisogno la mia imposizione è chiaramente quella di del no e mi auguro che voi usciti da qui possiate condividerla però assolutamente per me è più importante che i cittadini si informino e cerchino di aiutarci a aumentare la partecipazione perché oggi le persone partono sconfitte dicono che tanto non cambia mai nulla non si mettono in gioco e noi dobbiamo assolutamente per un interesse che abbiamo condiviso cercare di cambiare e invertire rotta perché altrimenti la politica sarà fatta sempre dai peggiori mentre noi dobbiamo cercare di far avvicinare alla politica il meglio che il nostro paese ha da offrire soprattutto in un'ottica di visione futuro grazie grazie mille io invece invito a votare sì invito a votare sì perché penso che sia una riforma che migliora l'assetto istituzionale e costituzionale e istituzionale secondo me bisogna fare anche altre cose aumentare i poteri del governo del presidente del consiglio non sono state fatte perché bisognava trovare una maggioranza si è cercato di trovarla il più ampia possibile è quella che si è trovata un pezzo di maggioranza se n'è andata poi ci sono persone che hanno votato per sei volte la legge e poi adesso fanno la campagna per il no è libero io non penso gli elettori giudicheranno ma non è che c'è il vincolo di mandato quindi hanno deciso per ragioni politiche più complessive credo che sia un passo avanti credo che altrimenti buttiamo come minimo dieci anni e poi ci ritroveremo io non farò più questo mestiere ma ci ritroveremo come oggi succede era meglio la riforma di Calderoli ok hai votato contro poi fra dieci anni si trovano qualcuno era meglio la riforma della Boschi e nel frattempo non si cambia il paese va avanti lo stesso naturalmente bene o male a secondo delle decisioni politiche dei governi di quello che fanno gli imprenditori i singoli cittadini eccetera eccetera se fanno bene a differenziato o no io credo che sarà un salto di qualità positivo la nuova Costituzione e soprattutto quello che io dico è andiamo al voto sulla nuova Costituzione poi se uno è convinto che è spaventato dalle modifiche o pensa che non ci sia modo di avere una Costituzione migliore di quella attuale può votare no l'invito che io faccio però è a votare sulla Costituzione perché se uno ha come obiettivo quello di virgolette mandare a casa Renzi ripeto insomma è una questione di mesi nel senso che saranno 14 mesi al massimo e poi si vota per le politiche e io penso che sia anche interesse del paese più in generale verso l'esterno visto che anche da un punto di vista economico ci giochiamo la partita dai turisti che vengono in Valtellina al vino esportato soprattutto all'estero sia meglio dare l'idea che il governo si cambia al momento elettorale e non dicendo come magari qualcuno spera il quattro sera se il referendum se il referendum dovesse vincere no adesso va a casa Renzi può darsi che succeda credo che ci sia poco da guadagnare per nessuno dopodiché se uno è convinto che la Costituzione è stata cambiata male o che è meglio tenere quella di prima vota no però se qualcuno si è convinto che forse questa riforma va nella direzione giusta e che se c'è qualche errore verrà corretto dopo allora mettiamo in cascina la nuova Costituzione e poi il giorno dopo ricominciamo a discutere politicamente viva Renzi a Bassorenzi viva Grillo viva Salvini e via di questo passo però io voglio fare un ringraziamento particolare a Gioele e soprattutto a voi che avete resistito per tutto questo tempo mi alzo io adesso alla fine per concludere dicendo che ringrazio innanzitutto i nostri ospiti che si sono prestati a questo confronto ma soprattutto ringrazio voi che avete legittimato questo confronto essendo presenti essendo autenticamente cittadini e venendo ad ascoltare le tematiche che abbiamo discusso alla quale saremo chiamati a votare quindi grazie a tutti voi per aver partecipato e per aver resistito strenuamente tre ore grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille io ho parlato il vicolo di mandato dicendo che il suo contrario è il vicolo di mandato punto no, hai detto perché sei stato con un lupico cambia idea perciò sul passato un capito sono andati a due terzi piangendo ma che gente era ma questo io su quello voglio no su questo su questo sono preoccupato dai come sulla storia non lo diciamo io non me ne ho